Musica Sarforzar centristas in Cusizu regionale ha una presentaosa alleanzia intre Sardegna al centro 2020 e su DC in sintere di una conferenza prosimprenda convocada da Stefano Tunis, Alberto Urpi, Antonello Peru, chi non fi presente vivi per i su Cusizzeri regionale Gianni Chessa che ha deciso di andare e che in suo partito centrista propoggiare la candidatura di Alessandra Zedda a questa amministrativa del Castello a questa dimanda che ha le atta esse subvenidore e desu Cusizzeri Chessa che in suo partito sardegna, se ex assessore desu Turismo non ha risposta in maniera crara procomo adesso pisdazzo non è star ribao per uno zinzale di apertura e procur su Chessa e Piero Maieli abbarrano fora e hanno decidere in Cusizzeri e uve parare in Cusizu Da eris finza a mesudì ed es appadu in so su fissi or municipales interessauso si deppene presentare so scandidaosa sindico Cusizzeri regionale prosa selezione er des otte e nove de lampadas Chinsa Lighera, Castello e Tattari ha una botare a terror ventibatto scomune sardoso Pezzi Muserrat e Signia in sarea metropolitana de Castello ha una plurde bindi chimiza abitantese In Castello sono candidato Manuela Corda ex deputada tesor 5 stelle Chins alternativa per Cagliari Giuseppe Farris ex assessore comunale Chinsa Civica Cagliari per passione e non per mestiere Claudia Ortu appoggiada da Epotere al Popole Picicro Pausa in Salista Cagliari Popolare Alternativa di Classe sex assessora regionale Alessandra Zedda prosa coalizione dei centrodestra e sex sindico pro Duormandaus in fila pare Massimo Zedda pro Cusadesu centrosinistra Intatta risos candidato su un usese Mariano Brianda Chinsa Civica costituente per Sassari sassessore Nicola Lucchi prosa coalizione centrista su rettore Gavino Mariotti prosa coalizione dei centrodestra Giuseppe Magia pro Cusadesu centrosinistra Giuseppe Palopoli prosa civica Sassari Svegliati E Manuel Pirina chinsalista Generazione Sassari Allarme bomba scientifica e Sos artificieri si chiana traballao pro scoperere esa natura de su pacco chi manco male non risultao periculoso una volta aver guau chi vito un allarme vrasso anatorrao a perere sos ufficioso e su camino e dentro i su pacco su militares hanno accattato una bomboletta spray che infilo elettrico scoloroso commos la polizia attavvia esas indagini pro scoperere chi è l'allassau indannantir desintrada de Simps Fissu 9 de maio desumille novecento schimbanta quando su ministro desos estero francesu dettando Robert Schumann ha proposto deva che naschire una comunità europea desu carbone desattario e naschia tanto sa cieca sa prima di una scanta desistituzione sovranazionale schiaia nappi formau su unione europea comente la connoschim musoie desu mille novecentos ottanta chimbe su nove de maio esadie desi Europa che custanno pur si vesta tinnugoro grazie a sasazione scordinata ar desu centru europe direct desu comune de Nugoro custo manzano ins auditorium desisre anna vattuna doviu kinsosi studenter desasi scola superiore de Nugoro ed esistitutu pischera de Bosa una vesta che ististada vince a s'occasione proammentare a sospizzino s'appuntamento elettorale europeo des otte nove de Lampadas esor valore democratico ligao su voto Kentukin Banta atletas kimbe continenter vinti kimbe naziones partecipantes esemmur fa vedande desos campionare mondialer de nuoti in Artumare chitorra su vinti battore su vinti kimbe de maio in Golfaranci su unica localidade costerina italiana a e sonore de organizzare una tappa desa coppa desu mundo in mare liberu chinsa partecipazione desormenzosi specialistas che ha vittorio paltrinieri e domenico a cerenza e a tese scusto s'ultimo appuntamento agonistico de importo innantir desas olimpiader de parigi a sa conferenza de presentazione a napicao parte vranco cucuredo assessore regionale a su turismo e daniele russo presidente regionale desa federnuoto italiana sa sardigna che in Golfo Arancia ha tese di mondo visione una bella occasione sportiva ma per una manera pro promuovere samazine desisula e valorizzare sosprodutto al localese